L'Istituto Penale Minorile apre le sue porte ai ragazzi della Scuola Superiore Virgilio di Mussomeli per un incontro e poi un momento di scambio e di interazione tra la realtà vissuta all'interno della struttura che ospita i minorenni e gli studenti. Nessuna differenza tra chi deve pagare le proprie colpe e chi invece trascorre la propria vita tra i banchi di scuola, le mura domestiche e qualche giro in motorino, ma ha soltanto tanti sogni e speranze da condividere e raccontare. Prodotti tipici locali, conserve e disegni sono stati alcuni dei regali che i 15 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore diretto da Caloggera Genco hanno donato ai ragazzi ospiti dell'Istituto Penale Minorile. Conoscere quello che si può vivere con la privazione della libertà, con degli errori che sono stati commessi o situazioni anche di degrado soggio-culturale è importante per un ragazzo che spesso in questa fase della propria vita trascura il senso di responsabilità o non ce l'ha proprio, oppure non ritiene che lo studio, la scuola possono avere un valore, possono essere importanti per il suo futuro. L'interazione e l'integrazione di altri minori liberi per i nostri ragazzi è importante perché loro vogliono confrontarsi con i pari età, perché hanno adulti a volte ci vedono o troppo rigidi o che non possiamo trasmettere magari, non lo so, valori che loro appunto vanno ricercando dai loro pari età. Ci sono miliardi di possibilità, di opportunità che si possono fare, attraverso quelle poter ricominciare e riavviare un normale percorso di crescita e quindi educare in tal senso. Ad accompagnare i ragazzi nella sala pulifunzionale dell'Istituto, i docenti di diritto Nino Provenzano e Vincenza Calà, promotori del progetto Il diritto penale insegnato ai ragazzi. L'idea è nata dalla voglia di far conoscere ai ragazzi anche una realtà quotidiana, diciamo, che è fuori dalle mura scolastiche. Hanno preparato anche dei quadretti con delle frasi di Jim Morrison, proprio che, come dire, invogliano questi ragazzi al valore della libertà, alla voglia di riprendersi. E' una di queste frasi proprio che a me è piaciuta particolarmente, è stata, non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi.